Ciao ragazzi, ciao a tutti, la nostra voglia di vedere, di commentare cose non è verità e quindi oggi vediamo la prima puntata insieme ai diavoli con niente poco di meno che con Patrick Dempsey Non c'è? Ah, c'è Alessandro Borghi, purtroppo Patrick, ciao, Patrick non è potuto venire, aveva un impegno Guarda, che parta questa serie? Allora, la serie diciamo che dal punto di vista mediatico la stanno promuovendo come tipo ok Borghi è figo però Dempsey De Pio C'è anche tutto un viaggio all'interno della finanza che era una roba che io non conoscevo assolutamente e immagino neanche voi No, ma noi adesso vediamo la puntata, però Alessandro già l'ha vissuto Ah, eh Cioè anche io prima di nuovo la sopra Non spoilerare Andata Lui è lo squalo Non sono abituato a vedere la gente vestita in questo periodo, cioè nel senso in pigiama Aurora che cosa vuol dire? Come la stai passando questa quarantena? Sì, allora questo è un po' per far capire ai comuni mortali Abbiamo anche messo del verde e del rosso Perché quando è rosso molto male, quando è verde tutti felici Quindi qui c'è tanta infelicità Ma soprattutto pochi Aspettate perché adesso c'è una delle peculiarità della serie Lo slow motion Vi do un aneddoto divertente su questa roba Quando tu giocini slow motion per muovere, per far vedere la macchina da presa che muovi un occhio Devi farlo tipo 36 volte più veloce Voi vedete questa cosa? Ma in realtà facciamo questo Tutto velocizzato Ma soprattutto io credo che la cosa più difficile di questa serie sia stata stirarsi la camicia tutti i giorni Ragazzi voi non avete idea della quantità di camicie bianche che c'erano in costumeria Una cosa mai vista Tu sai quanto sono fiero di te Attenzione questa è una scena che ricordo molto bene perché è stata Probabilmente la prima scena che ho fatto con Patrick Bellissima Ma il requisito per essere protagonista era avere gli occhi alzini Attenzione Guardate che sta succedendo Vieni alla stanza 609 Ma allora questa è una di quelle serie che non si possono vedere con mamma e papà No 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 Diciamo invece Alessandro tecnicamente quale è stata la cosa più difficile? Allora questa scena è stata forse la più impegnativa della serie Diciamo delle cose Mi so sentito un po' quello quanto Tom Cruise doveva scalare veramente la montagna su Mission Impossible Adesso è stata Cerco mia moglie Comunque ho capito che Diavoli è una serie in cui sono tutti un po' preoccupati Devo trovarla Allora questa cosa fa molto ridere perché l'entrata di questa scena come avete potuto vedere era Londra E invece questo qui è un locale che sta a Via di Burtino La magia del cinema Per questo alla Davenport abbiamo sviluppato e brevettato la finanza non era abbastanza difficile Ho detto mettiamoci anche la biotecnica E qui ve la do più io questa Ciao cara Vuoi qualcosa da bere? Bellissimo Poggio la giacca qui se non ti dispiace Ecco qua Alessandro posso dirti che la fai il peggio del tuo doppiatore? Perché lui la fa benissimo dai è impossibile Alessandro quanto è stata importante la condizione fisica per questo Ma allora guarda in realtà lo dico molto sinceramente C'è stato un momento dove avevo delle scene a petto nudo e mi sono allenato Poi da metà serie in poi ho mangiato come una cosa inguardabile Bravo bravo è come quando facevi i compiti il giorno prima per il giorno dopo Esatto Non faremo andare bene C'hanno una caratteristica come attori che ti ha colpito particolarmente? La cosa che accomunava un po' tutti era questa incredibile precisione Per esempio rispetto al silenzio rispetto a la concentrazione Questa roba è molto bella In Italia siamo abituati che tipo prima del ciacco uno deve fare Oh a Roma sta a tre Avrei saputo la notizia di Davenport? Certo Ogni volta che Massimo sta per entrare nell'ufficio di Dominic so cazzi Cioè nel senso c'è sempre il problema E' il famoso ti devo parlare Esattamente Si litiga si litiga si litiga si litiga Si litiga la carina Si litiga Aspetta che No è quello che ho detto io all'inizio Ma è lui? No ma no no ma non può finire così Guardate qui che succede Qui c'è il famoso cambio di sguardo da Angelo a Diablo Che poi non so se capita anche a voi Dopo che hai visto una serie Tu ti senti un po' come i personaggi di quella serie Quindi adesso noi ci inizieremo a vestire bene Io mi sento un po' Alessandro Bordi Ma anche perché gli somiglio da un po' Secondo me siamo due con Cetaco L'unica cosa che adesso ce la dobbiamo vedere per forza con te Perché ci siamo abituati Adesso tutte le puntate le vedremo insieme Va bene Ti ringrazio ragazzi E' sempre magico Il momento in cui finalmente vi devo salutare Ciao Penso che mi tolgo Ciao 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 ragazzi